Bentornati su MyFootballGersey. Torniamo a vedere le squadre delle nazionali che hanno disputato gli ultimi mondiali. Questa è la seconda maglia della Croazia in versione FAN. La maglia da trasferta della Coppa del Mondo Nike Croazia 2022 ha una combinazione di colori tipica per la maglia da trasferta della Croazia. La maglia combina una base blu scuro con elementi grafici azzurri e loghi rossi. Ufficialmente i colori sono Black Ned Blue, University Red. Ciò che rende unica la maglia da trasferta della Croazia è il design grafico. È dotato di pedine sfocate sulla parte superiore. La Croazia ha avuto magliette da trasferta blu, nere o blu scuro nell'ultimo decennio. Dal punto di vista del modello, la maglia da trasferta Croazia 2022 si basa sul design della Coppa del Mondo Nike 2022. Questa è una delle mie maglie preferite. Sarà anche in virtù dello strepitoso campionato del mondo che ha fatto, ma nella mia classifica questa prende, no scusate, 5 stelle. Il massimo. Bello le sfumature, questa scacchiera tipica della Croazia. Bello i colori. Veramente una maglia ben riuscita. Il costo, che vedete qui sopra, è veramente bassissimo per una versione fan fatta veramente bene e con dei tempi di spedizione eccezionali. In descrizione, qua sotto, trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Vi prego di visitare il sito per vedere anche quali altri sconti sono disponibili. Ora vi prego di mettere un like e iscrivervi al canale. Vi lascio poi alla parte finale nella quale vedrete le varie misure. Ciao! Io sono alto 1 metro e 75 e peso 70 chili circa. Quella che vedete è una taglia media della versione fan. Ciao! 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 Ciao!